Tutti percepiscono Valerio come il vincitore di Amici, di quell'edizione di Amici, anche se non lo è stato, ma perché l'enfasi, l'entusiasmo e la capacità attrattiva, il potere attrattivo che lui ha avuto sul pubblico è stato l'evento di quell'edizione. E' per questo che molti lo considerano come vincitore, specialmente chi non vive come voi, come noi, dal di dentro la realtà di Amici. La prima volta che sento cantare Valerio ero di fianco ad alcune persone che me lo avevano detto, guarda che questo qua è bravo. E io di solito sono abituato a dire a queste persone, che sono i miei amici, i miei colleghi di Renovato, che è quello che mi dite voi non ci credo mai. Quella volta lì invece mi sono girato e ho detto, ma avete detto la cosa giusta, pensavo che lo prendessi in giro e invece avete ragione. E mi sono reso conto che comunque Valerio è la marcia. Grazie.